Incidente sul lavoro in via Vilano a Monte Corvino Pugliano nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, un trentenne, mentre lavorava presso una serra collocata in un fondo agricolo, è stato colpito al capo da un cric avvolgicavi serre, caduto dall'altezza di due metri. L'uomo ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato soccorso dagli operatori del Vopi e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Al momento la prognosi è riservata. Grazie a tutti.